Gli omicidi sono avvenuti a distanza di pochi giorni e fonti anonime parlano di diverse similitudini. Faina! Celestia! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!